Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono Flicky108 e oggi ragazzi questo qua è un video veramente molto veloce Adesso ragazzi l'iPad Bene sono tornato Ragazzi questo qua come vi ho detto prima è un video molto veloce Perché ragazzi io vado a vedere spesso le notifiche dei miei video Aspettate adesso vado Vado a vedere un po' i commenti sugli ultimi video E io adesso apro il video del Rotorution 1 Di Minecraft l'ultimo Episodio 2 E Lorevale mi scrive Non faccio più video E io gli ho risposto Come non fai più video ma sei matto? E lui mi ha risposto Ma purtroppo ho deciso così Ma ti seguo lo stesso Allora io In questo video vorrei che Che tu mi spiegassi perché non fai più video Cioè sei così bravo perché non fai più video? Però a me non fai più video per arrivare Perché? Che cosa è che ti ha spinto a non farlo? Noi questo video dobbiamo scoprire cosa Tanto guarda un attimo sul tuo canale E poi la gente gli lascia Almeno 5 non mi piace a video Ma perché sono video così belli Ma perché sono video così belli? Io li lascio sempre mi piace Cioè Che problema? Guarda Just Alex sta male 2 mi piace 2 non mi piace Scusate Tentano saluto anche Just Alex Poi ho segnalato a wedding diretta 23 non mi piace Comunque L'orevale Tu devi continuare a fare i video Sei bravo Devi continuare a fare i video Per favore Non smettere Perché altrimenti Io non so più che Andarmi a guardare A parte gli altri Perché Io mentre gioco i videogiochi Mi guardo I video Dei youtuber In genere Mi guardo I suoi video Adesso però non li fa più E io come faccio Veramente Continuo a fare i video Continuo a fare i video E Perché con un youtuber Non si arrende mai E poi la crew Che fine farà la crew? Che fine farà? Siamo solo io E Adru E E chi altro c'è? Vabbè Vabbè Continuo a fare i video Per favore Questo video è dedicato a te Continuo a fare i video Te lo ti scongiuro Vabbè ragazzi Per questo video può essere tutto Io vi salvo a lasciare un bel pollicore in su Seguitemi Su Su youtube Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Tutti i link sono nella descrizione E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao